5, 4, 3, 2, 1, vai! Sinistra 4 lunga, in destra 4 lunga tieni, chiude su dosso, dosso dritto 30, sinistra 4 lunga tieni, in destra 4, in sinistra 4 e sinistra 3, 50 sale, stai a sinistra su dosso, in attenzione, destra 4, accenno sinistro, in destra 4, sinistra 5 subivio, 200, accenno sinistro sale, attento che comincia lo sconnesso, attenzione, destra 3, in sinistra 4 lunga 30, scende, accenno sinistro 30, sinistra 4 tieni, accenno destro, dosso dritto, destra 4 tieni, in sinistra 5, 50, e alla casa sinistra 5 su dosso, lunga tieni, in attenzione, destra 3, gira, chiude, albiri, in sinistra 4 lunga 50, sconnesso, e ai cartelli sinistra 3 tieni, e accenno sinistro, intornante destro chiude, in sinistra 3, in destra 4 chiude, scende, in accenno sinistro diventa 4 rotta 50, sinistra 5, in destra 3, 30, molta attenzione, sinistra 2 chiude, 2 chiude, e destra 4 sudosso diventa 3 tieni alla casa, sinistra 5 lunga 30, accenno destro sudosso 100, e al palo destra 5 100, dosso dritto, arrovescio, destra 3, gira, tieni, molta attenzione, in sinistra 4 tieni, e al cartello sinistra 4, in destra 5, accenno sinistro, in accenno destro, in sinistra 3 lunga lunga, subito destra 3 subivio 20, destra 4, in sinistra 5 lunga lunga chiude 4, in destra 5 due tempi scende 20, sinistra 5, in destra 4 taglia, in sinistra 3, in destra 4 lunga, e al birri sinistra 4 lunga tieni, molta attenzione subito, destra 2, e destra 3 30, molta attenzione, accenno destro in sinistra 1, accenno sinistro 20, destra 3 taglia, in sinistra 3 chiude, in destra 4, sinistra 4, e destra 3 taglia, in sinistra 3 vai 100, dosso dritto, molta attenzione al palo, accenno destro e accenno sinistro, in sinistra 5 20, sinistra 4 tieni, in destra 4 taglia, in sinistra 5 100, molta attenzione a rovescio, in versione destra, 50, a rovescio destra 5 tieni, e allo specchio sinistra 3 vai 100 con dosso, e al birri giù là in fondo, destra 4 30, sinistra 4 chiude, in destra 4, e al rail sinistra 3, e al rail destra 3 gira chiude, in accenno sinistro, in accenno destro sudosso, subito, accenno sinistro, e al rail, giù in fondo, sinistra 4 taglia 50, al cartello sinistra 3 no, in destra 3 gira tieni, in sinistra 5 lunga, in destra 4 tieni, in sinistra 5, in destra 5 lunga lunga 30, al cartello, sinistra 4 sudosso 50, sinistra 5, e destra 4 tieni, accenno sinistro, accenno sinistro, destra 5 30, e destra 4 tieni, chiude, attento che c'è la bandiera, in sinistra 3 20, accenno sinistro, in destra 2 gira molto, destra 2 gira molto, 30, sinistra 4, in accenno destro lungo diventa 4 ai cartelli, e al rail attenzione tornante sinistro, 20, sinistra 4 lunga lunga chiude, in destra 3 diventa tornante destro chiude, in sinistra 3 tieni, subito tornante sinistro, in destra 2, accenno sinistro lungo, in destra 4 30, sinistra 3 chiude, poi apre tieni, destra 4, accenno sinistro, destra 3 chiude, accenno sinistro, in destra 3 chiude diventa 5, in sinistra 3, in destra 4 no, in sinistra 4 lunga tieni, diventa 3, in destra 3 gira, no, in sinistra 4 vai 30, sinistra 4 lunga, in destra 4, e destra 3 vai 30, 3 vai 30, destra 4, in sinistra 3, bravo, 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 bravo ciccio, bravo, bravo, bravo.